Il ministro Matteo Salvini ha trasformato l'obbligo di salvare vite umane in reato. Il movimento Termoli Bene Comune rifiuta il clima di paura e razzismo messo in campo dal governo italiano. L'arresto della capitana della nave Sea-Watch Carola Rachete segna un ulteriore passo avanti sulla strada della barbarie aperta dal ministro Salvini che ha trasformato in reato il dovere di salvare vite umane. Per Fabio Sabatini, docente di politiche economiche all'Università La Sapienza di Roma, la Convenzione di Hamburgo del 1979 obbliga chi soccorre naufraghi ad accompagnarli al primo porto sicuro per garantire il rispetto dei diritti umani. Esclusi gli stati africani di Libia e Tunisia all'attracco della nave di migranti per l'obbligo dei soccorsi e rispetto della vita, come sancito dalle Nazioni Unite, era possibile solo a Lampedusa. La prodo nell'isola sud della Sicilia non costituisce alcun reato. La comandante Rachete ha obbedito ad una legge di rango superiore al decreto sicurezza bis del ministro Salvini. Inoltre, negli ultimi due anni l'Italia accoglie un numero molto basso di profughi e la stragrande maggioranza di chi arriva non vuole fermarsi. Infine, la ridistribuzione su base equa tra paesi europei chiesta a gran voce dall'Italia sarebbe stata possibile se Matteo Salvini non avesse disertato tutte le riunioni per rivedere l'accordo di Dublino, così come ha disertato le riunioni al Ministero degli Interni per la gestione degli arrivi. Il Movimento Termoli Bene Comune ribadisce il rifiuto del decreto sicurezza bis, disposizioni in materia di ordine pubblico che configurano azioni intimidatorie, punitive e razziste che mirano a consolidare un clima di paura ed emergenza non giustificato dai fatti.